E' da ieri che non si hanno più notizie di Andrea Craparo, un pensionato di 80 anni di sciacca che vedete in questa fotografia. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa, i carabinieri hanno ritrovato la sua autovettura parcheggiata all'interno dell'area dell'ospedale, dove l'uomo si sarebbe recato però all'insaputa dei parenti. Le ricerche sono tuttora in corso, si sta cercando all'interno di tutti i corridoi e tutte le stanze del Giovanni Paolo II, comprese quelle di servizio, anche in tutte quelle che non sono mai state usate. Sono tuttora al lavoro sia i carabinieri sia gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza. Un aiuto per ritrovare l'uomo viene garantito anche da volontari, oltre che dai familiari. Si sono ricostruite tutte le ore precedenti alla scomparsa dell'anziano. Un appello a collaborare alle ricerche di Andrea Craparo è stato fatto anche dallo stesso sindaco, Francesca Valenti.